Un breve video per avvisare a tutti gli amici e non di questo canale che questa sera potrete ammirare un'eclissi lunare parziale. La luna si vedrà sorgere già con un bel morso perché il fenomeno avrà inizio alle 19.25 quando la luna è ancora sotto l'orizzonte. Noi potremmo cominciare a vederla alle 20.12 mentre la fase di massima parzialità è prevista per le 20.20. Naturalmente la luna sarà bassa sull'orizzonte al culmine del fenomeno per cui per poterla osservare al meglio dovreste spostarvi in una zona che non abbia impedimenti alla visuale. L'eclissi sarà visibile ovviamente a occhio nudo e magari con un semplice binocolo potrete osservare meglio l'ombra curva della terra. L'eclissi tra parentesi era considerata una delle tantissime prove storiche della sfericità del nostro pianeta. Potrete anche divertirvi a fotografarla e se volete pubblicare le vostre immagini sul gruppo facebook di questo canale vi lascio il link in descrizione. Per i più pigri riporto anche il link della diretta che farà il virtual telescope e che inizierà alle 18.50. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi auguro buona visione dell'eclissi. Alla prossima!